ti aspettavi che arrivava quella tua svitol non ci credi è che sono qua è impossibile invece la tua svitolina è qua ti vogliamo bene mari guarda sei la nostra fiorda sei la nostra fiorda veramente siamo molto orgogliosi di te ci fai felici ti seguiamo tantissimo posso dare un bacetto anche se sei frizzata io te lo do perché non resisto e manca anche a me la mattina che ti mandavo il messaggino ed eri sempre pronta a averci il nostro caffettino anzi te il ginseng e io il caffè stai bene però ti vedo che stai bene molto sei contenta perché sei in compagnia stai proprio bene sono felice ti vedo proprio bene veramente siamo tutti contenti a casa ti seguiamo tutti i tuoi figli soprattutto mamma mia